Oltre Po Voghera parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone per informazioni contatta ora al numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing.com Buon giovedì a tutti e benvenuti a Vox Populi anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR a favore del candidato Pierezio Gezzi che contestava i risultati del primo turno delle elezioni del 2015 rigettando quindi le motivazioni del ricorso di Carlo Barbieri che contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo è quindi ufficiale, Voghera torna alle urne Lei andrà a votare? Ultimamente non sono più andato a votare quello che farò fra qualche mese non lo so Sì Io sì Sì, sicuramente in questo contesto sì perché io sono uno di quelli che purtroppo visto l'andamento dei nostri politici non solo a livello locale provinciale, regionale tutta Roma mi ha fatto perdere la fiducia di andare a votare però in questo contesto sicuramente In percentuale secondo lei quanti cittadini vogheresi pensa che andranno a votare? Secondo me pochi Come mai? Me lo chiede? Io penso che la situazione nazionale si rifletta poi anche a livello locale si riflette in qualsiasi cosa Quasi tutti perché si deve fare qualcosa per Voghera ancora non si è combinato niente Ma penso che tanti magari visto le situazioni del genere saranno incentivati quelli che come me hanno perso le motivazioni può essere che magari li ritrovino può essere, spero per cambiare un po' perché insomma Voghera è qui da vedere non è che ci voglia tanta tanta tante intelligenze per capire che le cose non vanno bene Lei ha già scelto chi voterà? No Devo ancora guardare chi c'è Vabbè ci saranno loro due Barbieri lo conosco Ghezzi, devo dire la verità non lo so com'è Cos'è del PD? Ah, è lui invece del Forza Italia E allora In sopensa coro E in base a cosa ha deciso? Caratteristiche optime per svolgere un'attività corretta onesta e vogliera di essere una città bene guidata E le dirò di più, posso anche dire anche chi voto se mi è consentito Voterò Ghezzi perché è un personaggio nuovo che a Voghera non c'è mai stato e speriamo in bene Speriamo in bene Finita l'estate parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti e per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it Da settembre riparti con noi Riparti con Occhio Pavese Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.